Infine vediamo la macchina di Stirling utilizzata come pompa di calore. Anche in questo caso bisogna utilizzare un generatore esterno che fornisce l'energia elettrica, in modo che la macchina di Stirling possa riscaldare una certa zona, che in questo caso sarà la zona rappresentata con A, mentre la zona B si raffredda perché il calore viene sottratto a B per essere ceduto ad A. Può sembrare identica al frigorifero, la pompa di calore, ma in realtà è diverso l'obiettivo perché il frigorifero vuole raffreddare una zona, la pompa di calore invece vuole riscaldare una zona ed è per questo che è diversa la definizione di coefficiente di prestazione. Infatti quello del frigorifero è incentrato sul calore sottratto alla zona da raffreddare, invece il coefficiente di prestazione della pompa di calore è incentrato sul calore ceduto alla zona da riscaldare. Questo è lo schema della pompa di calore, la zona fredda è B, la zona calda è A, vengono sottratti i soliti 60 J, nell'esempio di calore dalla zona fredda, messi insieme 40 J di lavoro per far funzionare la macchina e ceduti i 40 più 60, 100 J alla zona calda. Il coefficiente di prestazione però in questo caso non è il calore sottratto alla zona fredda diviso il lavoro ma è il calore ceduto alla zona calda diviso il lavoro perché rappresenta ciò che la macchina deve fare non tanto sottrarre calore dall'esterno o quanto cedere calore e riscaldare una zona calda. Quindi il coefficiente di prestazione è ciò che la macchina deve fare rispetto all'energia che utilizza per funzionare. In questo esempio solito inventato il coefficiente di prestazione o fattore di guadagno è 100 diviso 40 quindi 2,5. Per quanto riguarda questa particolare macchina di Stirling da laboratorio di fatto frigorifero e pompa di calore sono due funzionamenti molto simili perché le due zone A inizialmente si trovano alla stessa temperatura poi durante il funzionamento una si scalda e l'altra si raffredda. Quando la macchina viene usata da frigorifero il calore passa da A a B, quando invece viene utilizzata come pompa di calore il calore passa da B ad A. In pratica con questa macchina da laboratorio l'unica differenza è il verso in cui avviene il trasferimento del calore. Per vedere nel dettaglio le varie fasi del funzionamento della pompa di calore di Stirling e dobbiamo guardare queste immagini però scorrendole dal basso verso l'alto. La linea del tempo scorre in alto. Quindi all'inizio abbiamo il pistone al minimo volume, siamo in questa zona e abbiamo il raffreddamento con eccessione di calore all'esterno che avviene in corrispondenza della zona A. Intanto il dislocatore si sposta a sinistra e in questo modo lascia scoperta la zona B. Cioè l'aria si sposta in zona B. Intanto il pistone di lavoro si allarga per realizzare l'espansione isoterma durante la quale il gas, cioè l'aria, assorbe una quantità di calore Q1 e perciò la assorbe dalla zona B. Infatti vediamo calore Q1 che entra nell'aria e viene sottratto alla zona B. Continuando a scorrere le figure verso l'alto vediamo che il pistone di lavoro si sposta ancora più a destra e completa l'espansione isoterma e l'aria nel cilindro di compressione continua ad assorbire calore, siamo in questo momento in quella che simula l'isocora di riscaldamento. Quindi continua a sottrarre calore alla sorgente B. Sarebbe questo calore Q che entra nel gas. A questo punto il pistone di lavoro inizia a comprimersi, quindi cominciamo la fase di compressione isoterma alla temperatura più alta. Il dislocatore intanto andava verso destra, si è spostato tutta a destra ora e quindi lasciando l'aria a contatto con la sorgente A. Durante questa compressione isoterma il gas cede calore appunto alla sorgente A. questo calore ceduto va a riscaldare quindi la sorgente A che già era stata precedentemente riscaldata dai cicli precedenti. Quindi siccome questo non sarà il primo ciclo ma uno dei cicli successivi già abbiamo la zona A più calda della zona B. Quindi dalla zona B è stato sottratto del calore che poi è stato ceduto alla zona A. Infine l'ultimo tratto è quando il pistone di lavoro arretra definitivamente fino al volume minimo, quindi eravamo in compressione isoterma adesso siamo al volume minimo e il dislocatore sta avanzando verso sinistra e intanto si completa la fase di cessione del calore. Sarebbe questa freccetta azzurra che rappresenta il calore ceduto dal gas sempre nella zona calda A. A questo punto il pistone è pronto per allargarsi di nuovo e iniziare un nuovo ciclo, quindi una espansione isoterma alla temperatura fredda. Perciò il nuovo ciclo ricomincia da qui, si allarga il pistone e l'aria sottrae calore alla sorgente fredda B. Quindi in definitiva vediamo che il calore viene sottratto alla sorgente fredda, continua a essere sottratto, questo calore qui è questo, poi invece viene ceduto alla sorgente calda e anche nell'ultima fase viene ceduto alla sorgente calda. Per questo motivo lo schema prevedeva il spostamento di calore dalla sorgente B alla zona calda A.